Sottoscritti in prefettura a Tenamo i protocolli con i comuni costieri destinatari dei fondi del progetto Spiagge Sicure, fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Interno e che riguarderà per la stagione 2019 Alba Adriatica, Martinsicuro, Pineto, Roseto e Silvi. Ammonta un totale di 4,2 milioni di euro il contributo erogato dal Ministero dell'Interno per l'attuazione del progetto che coinvolgerà 100 comuni rivieraschi sotto i 50 mila abitanti, selezionati anche sulla base delle presenze turistiche registrate nelle scorse stagioni estive. Abbiamo ottenuto un importante finanziamento grazie all'operazione Spiagge Sicure. Questo finanziamento riguarda la lotta all'abusivismo commerciale nelle spiagge. Mediante questo finanziamento noi assumeremo quattro vigili stagionali e daremo un'adeguata dotazione per il pattugliamento in spiaggia per il contrasto agli ambulanti che vendono prodotti contraffatti e quindi acquisto di mountain bike da spiaggia, di materiale idoneo per il pattugliamento, poi campagne informative contro l'acquisto di merci contraffatte. La Polizia Municipale ha svolto il proprio compito in maniera esemplare in passato anche con sequesti importanti, tuttavia le risorse umane, visti i limiti finanziari, comunque non sono sufficienti a garantire una vigilanza completa. Ripeto, nonostante l'egregio lavoro della Polizia Municipale, quindi si è visto nelle passate stagioni comunque degli importanti fenomeni di abusivismo in spiaggia.